Le scuole non riapriranno fino a settembre, dunque la didattica a distanza è per ora l'unico modo per garantire formazione e continuità scolastica. E come fanno quelle famiglie che hanno un minore in casa, un terzo secondo una ricerca Istat recente, ma non hanno un dispositivo per connettersi, studentesse e studenti tagliati fuori dalla vita sociale ed educativa? Per questo in tutta Italia sono partiti i progetti nelle scuole o grazie ad associazioni per aiutare gli studenti in difficoltà dotandoli di connessione device. Uno di questi è tutti connessi e attivo a Torino, collaborazione tra le associazioni torinesi SIX, Tecnei, Informatici Senza Frontiere e Museo Piemontese dell'Informatica. In cosa consiste lo racconta Francesco Ronchi dell'associazione SIX e fondatore di Sinestesia. Di raccogliere delle donazioni da privati e da aziende, ricondizionare questi dispositivi attraverso dei volontari che si occupano di cancellare tutti i dati, di reinstallare eventualmente i sistemi operativi, ovviamente di sanificarli visto il periodo quindi anche con le modalità appropriate e poi fornirli, renderli disponibili per la donazione. La donazione avviene su segnalazione di un docente o un operatore sociale che può afferire per esempio a delle organizzazioni non profit. Allora abbiamo aperto su Rete del Dono, che è un sito di crowdfunding proprio dedicato all'iniziativa non profit, abbiamo aperto una campagna di crowdfunding in cui chiunque può fare una donazione in denaro, questo denaro poi verrà trasformato in PC che verranno acquistati, personal computer, SIM dati e altri dispositivi possibilmente ricondizionati perché c'è anche uno spirito ecologico dietro a questo progetto, quindi di riutilizzo di dispositivi che altrimenti non erano più in uso, quindi acquistati e messi nel circolo delle donazioni. Fondi con cui si potrà ovviare anche a problemi di connessione con SIM dati e modem in pochi giorni. Sono arrivate oltre 700 richieste di dispositivi, le donazioni finora sono state circa 50, ma l'attenzione al progetto fa ben sperare per il futuro.